la nostra Nadia, Nadia come stai Nadia? bello ritrovarti che piacere rivederti, come stai? benissimo, grazie allora, carissima allora, grazie tutto bene? sì, grazie il microfono, se no poi sembra l'effetto acquario sono abituata a parlare così da vicino poi non ho pensato va bene, allora io ho bisogno della tua complicità devo cercare di... non voglio far sentire devo fare un po' ruffiano con Elena che facciamo? un brano, tu devi essermi complice un brano molto romantico uno di quelli per acchiappare una cosa che favorisce l'acchiappone hai qualche idea? allora, io direi di presentarsi con... ma se non è amore questo? se non è amore, proviamoci almeno proviamo se non è amore canta Nadia Erbolini grazie se non è amore questo ma dimmi tu cos'è questo sentimento io che io sento dentro dentro e sentirmi dentro e non capire niente stare su un anno volando questa sensazione è il mio corpo volare e più su con te non siamo qui se non so ma sì immagino che ti aspetti tu in tutto il corpo i privilegi mi portano lontano sì amore tu non sai amore io non parlo mai mai le tue domande ma perché non ho io ti amo forse più di te non conosci me soddisfazione non ti do ma io gelosa sono di te ma io ti amo Sendo un sogno così, magia che trasmette tu In tutto il corpo i brividi mi portano lontano, sì Amore tu non sai, amore io non parlo mai, mai Le tue domande ma perché no, no, io ti amo forse più di te Tu non conosci me, soddisfazione non ti do, ma io ce lo sa son di te Sembra un sogno così, magia che trasmette tu In tutto il corpo i brividi mi portano lontano, sì Amore tu non sai, amore io non parlo mai, mai Le tue domande ma perché no, no, io ti amo forse più di te Non conosci me, soddisfazione non ti do, ma io ce lo sa son di te Se non amore questo, ma dimmi tu cos'è Accompagnata dal maestro Gianni Gandhi, la nostra Nadia Complimenti come sempre È andata bene? Sì, innanzitutto grazie per la complicità, sono una complice E poi ti confermi, bravissima Nadia Erbolini Grazie, alla prossima puntata Grazie, grazie